Sì, purtroppo anche oggi siamo qui a commentare un'altra sconfitta, dopo 30 minuti giocati secondo me bene sia in attacco che in difesa, è chiaro un momento di difficoltà, ci siamo ritrovati in un momento chiave senza avere la forza di chiudere la gara e quando Treviso ha percepito che poteva riprenderci siamo usciti dalla gara, questo chiaramente non deve succedere, questa mancanza di sicurezza è sicuramente frutto anche delle sconfitte dell'ultimo periodo però dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo, l'inserimento dei nuovi giocatori migliora giorno dopo giorno, non è sufficiente chiaramente però ripeto non possiamo altro fare che continuare a lavorare e cercare una vittoria che sarebbe importante oltre per la classifica soprattutto per il morale perché nei panni dei miei ragazzi oggi una vittoria ci aiuterebbe molto.